Adesso cari donne arrivano due bei ragazzi, uno suona la fisarmonica e l'altro ci incanta una canzone perché a volte anche i giovani diventano romantici e questo è il romanticone, è un bel tango con le voci di Simone Mellino e naturalmente la fisarmonica di Mirko Puzzo. Per voi! Lei signorina, venga con me, le farò vivere un sogno nel caschè e così forte la stringerò che in questo tango io la conquisterò Sono un romantico romanticone con lei questa sera e poi si vedrà Sono un romantico romanticone e poi da stasera mai più la vedrà Ma se stanotte il suo cuore vorrà la mia amante sarà per la vita chissà Ma se stanotte il suo cuore vorrà la mia amante sarà per la vita chissà Sono un romantico romanticone e poi da stasera mai più la vedrà Ma se stanotte il suo cuore vorrà la mia amante sarà per la vita chissà Ma se stanotte il suo cuore vorrà la mia amante sarà per la vita chissà La mia amante sarà per la vita chissà E per favore, mi dica che, che in questo sogno, lei fa l'amor con me. Sono un romantico, romanticone, con lei questa sera, e poi si vedrà. Sono un romantico, romanticone, e poi da stasera mai più la vedrò. Ma se stanotte il suo cuore vorrà, la mia amante sarà, per la vita chissà. Ma se stanotte il suo cuore vorrà, la mia amante sarà, per la vita chissà. Sono un romantico, romanticone, e poi da stasera mai più la vedrò. Ma se stanotte il suo cuore vorrà, la mia amante sarà, per la vita chissà. Ma se stanotte il suo cuore vorrà, la mia amante sarà, per la vita chissà. Simone e Mirko! Venite, venite al centro ragazzi, sono stati abbastanza romantici questi due ragazzi. Le fate innamorare così le donne in Sardegna? Ci proviamo, ma non ci riusciamo. Come non ci riuscite? Poi adesso siamo in due a fare la brutta figura, perché siamo in due bassi. È colpa dei miei tacchi ragazzi, non è colpa vostra, è colpa dei miei tacchi. Quindi è tutta colpa mia. Comunque, sono stati bravi? Grazie. Ci sono piaciuti? Grazie. Noi vogliamo solo mandare il saluto alla nostra terra, senza dimenticare il resto dell'Italia, però la nostra terra è particolare, speciale, quindi mandiamo un saluto soprattutto agli amici che ci stanno seguendo stasera, quindi saluti da parte nostra. Salutiamo tutte le donne di Oltia, insomma questi due romanti ci stanno cercando l'amore. Grazie ragazzi a dopo, grazie di cuore.